I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia, coadiuvati dai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e da una unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato un quarantenne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'arma tenevano d'occhio un'abitazione da diversi giorni, insospettiti da un via vai piuttosto insolito anche in pieno giorno. Così hanno deciso di fare irruzione e le ipotesi investigative hanno trovato conferma. Il blitz ha infatti consentito di sorprendere all'interno un pregiudicato di 40 anni e nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 100 grammi di stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana, sostanze suddivise in 79 dosi preconfezionate, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e la somma di 515 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Inoltre è stato scoperto un sofisticato impianto di videosorveglianza per tentare di anticipare le mosse delle forze dell'ordine. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio, il quarantenne invece è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa.